Dopo il pesce siluro, le acque del lago Ceresio tornano a popolarsi di anguille. Nei giorni scorsi è stata la Federazione Svizzera di Pesca a disegnare questa specie ittica come pesce dell'anno 2018. Pochi giorni fa, Urs Lushinger, presidente della Federazione Ticinese Aquicoltura e Pesca e consigliere comunale a Lugano, in un'intervista al Corriere del Ticino aveva ricordato come le acque del Ceresio continuano a migliorare e sono sempre più pescose a dimostrazione della bontà degli interventi di ripopolamento condotti nello stabilimento di Brusino. Da quanto è stato documentato, l'anguilla anche nel Ceresio nel tempo è divenuta sempre più rara a causa della realizzazione della diga di creva in territorio italiano vicino a Luino che ne bloccava la naturale migrazione da e per il lago Maggiore. Questo ostacolo è stato abbattuto però circa tre anni fa grazie alla realizzazione di una scala di monta che ha permesso di riaprire il corridoio naturale spezzando un isolamento durato ben 80 anni circa.